Avete mai visto quest'immagine? Se avete familiarità con le backrooms, probabilmente sì. Si tratta di un'immagine che ha iniziato a circolare su 4chan intorno al 2019, ma che nel corso del tempo si è così tanto affermata su internet che ad oggi possiamo dire che abbia gettato le basi per un qualcosa che è entrato per sempre negli annali della storia. Super complicata, grazie alle aggiunte pseudo-infinite degli utenti di internet, la lore delle backrooms è diventata ormai conosciuta da tutti. Ma oggi voglio portarvi proprio lì, proprio nel posto in cui questa foto è stata scattata. Ho addirittura le coordinate, perché me le sono scritte per non sbagliare. Ah, questo qui da dove arriva invece? Questo qui ragazzi lo trovate su Pampling. E fareste meglio anche utilizzare il mio codice sconto, Gematri, in questo periodo, perché stanno mettendo su una promozione veramente da bancarotta. Praticamente con 50€ vi portate a casa 6 maglie dei design più particolari che ci sono sul sito. Con il mio codice sconto, tra l'altro, risparmierete ancora di più. E otterrete anche dei calzini gratis, come quelli che indosso in questo momento. Low cost. Insomma. Tornando a noi, dobbiamo dare un pochino di contesto a quello che stiamo facendo oggi. Le backrooms sono ciò che potremmo ricondurre a una sorta di limbo strutturato su livelli, a loro volta strutturati in corridoi e stanze, all'interno dei quali è possibile spostarsi per procedere e man mano scendere nei livelli più pericolosi. Questi livelli sono completamente popolati da creature subdole e pericolose, che non vedono l'ora di potersi avventare sui malcapitati di turno. Ma cerchiamo di ripercorrere un attimino, altrimenti non si capisce niente. Come abbiamo detto, la teoria delle backrooms è nata su 4chan il 12 maggio del 2019. Un utente ha pubblicato questa immagine, che ad oggi potremmo definire come un odd familiar place, in una stanza già all'anni 70, che in calce riportava questa didascalia. Se non fai attenzione e ti allontani dalla realtà nelle aree sbagliate, finirai nelle backrooms, dove non c'è altro se non la puzza di un vecchio tappeto umido, la follia di un giallo monotono, l'infinito rumore di fondo delle luci fluorescenti al massimo ronzio e circa 600 milioni di miglia quadrate, distanze vuote, suddivise a caso per intrappolarti. Dio ti salvi se senti qualcosa che vaga nelle vicinanze, perché sicuramente lui ti ha sentito. Nel posto originale viene anche utilizzato il termine noclip, sostanzialmente su internet ha cominciato ad esserci il termine noclipare, che è molto simile a quello che succede nei videogiochi quando, per esempio, il gioco è fatto male e ti compenetri con una parete. Quello è il noclipare. Uscire dalla mappa, in sostanza. E lì ci si trova in un punto nel quale forse non dovremmo esserci, senza nessun personaggio previsto, in spazi non previsti da nessuno, sostanzialmente degli errori. Le backrooms, infatti, sono degli errori, dei luoghi che vengono definiti non luoghi, vista la loro natura comune e priva di elementi che possano identificarli. Dei luoghi che trascendono completamente la tradizionale concezione di luogo. Corridoi infiniti, ricorrenti stanze identiche e l'assenza di finestre, che fanno immergere chi vi giunge in una condizione di completa alienazione, tale da far perdere la consapevolezza sullo spazio circostante, sul mondo esterno e soprattutto sulla logica classica dello scorrere del tempo. Secondo la teoria esisterebbero diversi livelli delle backrooms, e mano a mano che si scende, i livelli diventano più pericolosi. Trattandosi di un concetto astratto e non perfettamente definito, i suoi sostenitori non sono di comune accordo riguardo alla quantità di livelli. C'è chi sostiene che ve ne siano tre, altri un centinaio, altri invece che i livelli siano infiniti. Fino a poco tempo fa la teoria dei tre livelli sembrava essere quella più condivisa, ma mano a mano che internet ha sviluppato la lore delle backrooms, e qui ci vuole, con videogiochi, mappe a tema, per esempio abbiamo visto la mappa di My House su Doom, che è sostanzialmente un enorme spazio liminale, un enorme backroom. Insomma, tutta quanta la lore non ha fatto che evolversi. Il primo livello, il level 0, corrisponde all'immagine del post di 4chan, un labirinto di stanze identiche, prive di arredamento, statiche e silenziose. Attraverso un ascensore o una rampa di scale, però, si può accedere al livello 1, il quale è sostanzialmente uguale al precedente, eccetto per alcuni dettagli più inquietanti. Crepe nelle pareti, muffa, sfarfallio delle luci alternate a secondi di totale oscurità. Se prima i rumori erano quasi assenti, ora invece si possono sentire scricchioli, rumori meccanici, se non addirittura delle urla in lontananza. Improvvisamente, senza scale o altre uscite, ci si ritrova al livello 2. In questo livello lo scenario cambia drasticamente, immergendo lo spettatore in un'atmosfera oscura e inquietante. Questo livello è costituito da un lungo tunnel, scarsamente illuminato, e contornato da innumerevoli condotti delle reazioni e tubature, un crescente senso di terrore pervade chi vi accede, e più si avanza, più il calore e il rumore dei macchinari si fanno insopportabili. Qualcosa si nasconde tra le ombre, lo si percepisce, e l'unico istinto che si ha è quello di fuggire. Qualche tempo fa abbiamo anche un attimo visto quali creature sarebbero presenti nelle backrooms, se esistono veramente, e tutte queste cose per le quali vi rimando anche a quei video. Ma c'è un qualcosa che la gente si è chiesta per tanti anni, è dal 2019 che la gente si smarmella la testa su questa roba. Quindi, le backrooms esistono veramente, e soprattutto più che questo, perché questa cosa l'abbiamo già vista. Ma quella foto che vi ho fatto vedere prima, con le pareti gialli e tutto quanto, ma da dove arriva? Se vi ricordate, qualche tempo fa, ci ho provato anche io, vi ho pubblicato un video nel quale cercavo, in ogni modo possibile, di risalire all'identità di chi avesse scattato questa foto, il luogo, però, effettivamente, non ci sono riuscito. Per una volta, pure io non ce l'ho fatta. Qualcuno, però, al posto mio, ce l'ha fatta, e sono passati soltanto un paio di giorni da quando questa cosa è successa ed è diventata di dominio pubblico. Quindi, mi sono voluto riservare questo momento per voi, ragazzi. Sto per vedere, per la prima volta, dove è stata scattata questa foto. Se volete venire con me, gli diamo un'occhiata assieme. Dunque, andiamo semplicemente su Know Your Meme, perché, effettivamente, ci sono tanti articoli simili, tante cose simili, però Know Your Meme, diciamo, è la nostra garanzia. Gli articoli che sto vedendo, tra l'altro, si basano tutti quanti su Know Your Meme. E quindi, semplicemente, perché non dare ascolto al maestro? La location delle backrooms è stata finalmente scovata dopo cinque anni di ricerche. Alcuni dicevano che le backrooms potessero trovarsi in Ohio. Ci sono state tantissime scommesse con questa roba, tantissima gente ha cominciato a fare foto in giro, ma finalmente l'origine di questa crevipasta è stata messa nero su bianco. Quindi, che è successo? Semplicemente, lo scorso mercoledì, questo utente ha annunciato che il suo amico si era imbattuto nell'origine di questa fotografia. Non ha parlato di spazi liminali, di questa roba qua, però si ricordava di aver già visto questa foto. Allora, il sito non è più disponibile, ragazzi, ma possiamo fare un viaggetto indietro nel tempo, sempre con Wayback Machine, come al solito. Eccoci qua. Questo qui è il sito. L'ultima volta che è stato aggiornato, parliamo del 2003, quindi, insomma, ecco qua, ecco qua. Queste, ragazzi, sono le foto delle backroom, proprio il primo momento in cui sono comparse su internet. Madonna santa. Ma non sembra nemmeno vero, veramente. Tutto il resto non si riesce a caricare perché non si riesce a caricare. Però questa è la prima traccia su internet di questa foto. Pensate addirittura che scoppia nel 2019 questa cosa, ma la foto arriva dal 2003, 2002. Quindi, vabbè, vi ho spiegato che cosa sono le backroom per chi fosse rimasto indietro, ma la location è stata scoperta. Ah, eccolo qua. L'esatto indirizzo della location è stato trovato. Si parte, ragazzi. Vediamo un po' dove ci porta, con un lag tremendo. Oh, ecco qua. Oregon Street, 807. Vediamo se possiamo... Non lo so, eh. Questo è il punto in cui tutto quanto è cominciato, in cui la lore delle backroom è cominciata. Mamma mia, mamma mia. Vediamo un attimino se possiamo mettere lo Street View. Sì, si può mettere lo Street View. Questo palazzo con le tende blu è il punto in cui è cominciato tutto quanto. Qua dentro è stata scattata, in particolare qua dentro, è stata scattata la foto delle backrooms. Mamma mia. Non sembrava anche vero, cioè, mi fa strano adesso sapere che questa... Cioè, sì, ok, lo sapevo. Però mi fa strano aver visto dove questa roba è stata scattata. Mi sto sentendo vecchio perché la cosa delle backrooms ormai ha cinque anni. Cioè, io sono cinque anni... No, ho iniziato a parlarne del 2022. 2022, 2021. Però sono... Eh, sono un po' di anni che parliamo di backrooms. Madonna, ragazzi, ci stanno facendo vecchi. Se volete andateci a fare un salto, perché magari... Non lo so se dentro è ancora così. Dubito. Dubito fortemente. Perché queste qui sono le foto adesso. Eh sì, è stato convertito in una pista da... Penso per i bambini, immagino. Non lo so. RC Racing Track. Ma forse non è per bambini. Vediamo. Mi si è vista per macchinine, una cosa del genere. Non lo so. Comunque, questo è ciò che è diventato quella foto che ha spaventato tante persone e che in realtà ne ha fatte sognare altrettante. Posso dirvi la verità? Io continuerò a pensare che quella foto lì è ancora all'imposto. Tutto quanto... Non toccatemi il mio sogno, per favore. Comunque, questo è quanto. Fatemi sapere se avete già sentito questa notizia. Fatemi sapere che cosa ne pensate. E per il resto, ragazzi, cosa dirvi se non grazie a essere stati qui anche oggi. Qui sotto in descrizione vi lascio tutto ciò che può servirvi e noi ci vediamo alla prossima.